Come iniziare a fare dropshipping nel 2022 e oltre? Se stai iniziando proprio adesso, allora guarda questo video fino alla fine perché ti sarà utilissimo. Ti do ufficialmente il benvenuto in questo nuovo video relativo al dropshipping. Io sono Stefano Montana, mi occupo di e-commerce, dropshipping e social media marketing da oltre 5 anni. E nel corso di questi anni abbiamo aiutato io ed il mio team a far svoltare letteralmente attraverso il business e-commerce più di 1000 persone tra clienti e studenti. Tutte le recensioni ovviamente sono su montanabusinessonline.com per qualsiasi tipo di informazione, consulenza o in generale per i programmi avanzati. Mi raccomando, vacci subito e lì troverai tutto quanto. Ora partiamo subito con il video dicendo che il dropshipping nel 2022, come negli altri anni, io ripeto l'ho fatto, ho iniziato a fare dropshipping già nel 2017-2018 più o meno, però a quei tempi c'erano molte meno informazioni. Iniziamo col dire che il dropshipping adesso è molto più avanzato in quanto sono nate tantissime nuove opportunità, tantissime nuove aziende hanno letteralmente cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il dropshipping in Italia. Ci sono addirittura certe aziende, certi fornitori che offrono il pagamento alla consegna in dropshipping, che questa ovviamente per chi non lo sapesse è una notizia eccezionale. Ovviamente sono ancora pochi in quanto devono comunque i fornitori comprare tutti i prodotti in precedenza, quindi assumersi il rischio, a differenza vostra che fate dropshipping e non vi assumete il rischio di impresa iniziale in quanto non comprate i prodotti iniziali, è proprio questo il fulcro del dropshipping. Per chi non lo sapesse, il dropshipping è letteralmente vendere prodotti fisici prima di averli comprati, quindi prima di aver fatto magazzino, di aver quindi comprato tutto lo stock e quindi aver speso soldi in precedenza. Tutto questo si evita perché con il dropshipping possiamo letteralmente iniziare a vendere sul nostro sito e-commerce, ovviamente usiamo Shopify perché è il numero uno al mondo, il più semplice, non hai bisogno di codici, di programmazione, qui sotto trovi il link in descrizione ovviamente per iniziare con la tua prova gratuita e capire un po' come funziona il mondo dell'e-commerce e di Shopify. Shopify che ti rende la vita semplicissima oltre al fatto che è pieno di applicazioni che puoi utilizzare per incrementare le tue vendite, ok? Quindi essendo tu un dropshipper il tuo obiettivo principale è ovviamente vendere il più possibile sul frontend, ovvero appena la gente arriva tu subito devi andare in profitto tra i soldi che spendi per magari generare traffico, anche se ci sono ovviamente strategie di traffico organico. Soprattutto adesso tramite TikTok, i Reels, comunque Shorts di YouTube appunto, dovete assolutamente essere ovunque con il vostro brand dropshipping o in generale con il vostro brand e-commerce e in particolare, ripetiamo, per il traffico organico TikTok adesso è veramente una bomba, infatti potete generare vendite senza spendere un euro in alz, ovviamente c'è il controvalore della medaglia, ovvero che dovrete spendere in tempo, quindi generare video, trovarli, creare contenuti, ovviamente questo è gratis, però è un investimento in termini di tempo. Se uno ha un basso budget come è nel caso del dropshipping che sta iniziando, la maggior parte delle persone che fanno dropshipping si affacciano a questo modello di business per appunto iniziare ad intraprendere comunque una carriera nel mondo dell'imprenditoria digitale, che ovviamente è un business ragazzi. Il dropshipping non è più un gioco, non lo è mai stato, è semplicemente un'evoluzione di quello che era appunto 5 anni fa, ma non è mai stato un gioco, è vendere prodotti fisici alle persone. Voi che fate dropshipping semplicemente siete un tramite tra i fornitori e i clienti. Si vanno a creare tanti meccanismi che tu dovrai far combaciare, in maniera tale ovviamente da andarci sopra in termini economici, perché vi ricordo ragazzi, noi iniziamo a fare dropshipping, in generale social media marketing o qualsiasi business online, ovviamente per guadagnarci, ok? Non stiamo facendo passeggiate in campagna per divertimento o cose del genere, stiamo semplicemente iniziando un business online in dropshipping per guadagnarci il prima possibile. Ora, molte persone mi chiedono quando si guadagna, come si guadagna, è molto semplice ragazzi, non ci sono termini specifici, ci sono studenti, miei studenti che hanno guadagnato subito dopo il primo giorno di ads, sono studenti che magari hanno guadagnato dopo settimane, dipende, ok? È tutto relativo a quello che stai facendo adesso e come lo stai facendo. Ora, la strategia che insegno io ai miei studenti e ai miei clienti è principalmente semplice ma non facile, in quanto quello che dovete fare è prendere qualcosa che sta già funzionando in un mercato, magari che può essere gli Stati Uniti, mercato inglese, United Kingdom, oppure Francia, Germania, e magari portarlo in Italia. Questa è una strategia. Quindi già voi sapete che sta funzionando, perché tutto il dropshipping puro, quindi il dropshipping vero, originale, viene dall'America comunque, dal mercato inglese, perché è lì che c'è la maggior parte delle persone che vendono online. L'Italia ovviamente arriva dopo, come in qualsiasi altra cosa, in qualsiasi altro business o informazione, arriva sempre tutto dopo. Quindi assicuratevi di prendere un prodotto che è la variabile numero uno all'interno del vostro business, di dropshipping, e che venda, ok? Questo è il vostro, questo è il vostro obiettivo principale, scegliere un prodotto, perché alla fine dei conti è il prodotto che fa la differenza in un mercato, in qualsiasi mercato. Trovare un prodotto e scegliere un prodotto che sta vendendo adesso. E ora mi starei chiedendo, ma Stefano, come faccio a sapere se vende adesso, se sta vendendo in un altro paese? È molto semplice, ci sono le ads library di Facebook, di TikTok, anche di YouTube, che ti fanno vedere esattamente le persone, i brand, i business, che stanno sponsorizzando in questo esatto momento. Quindi, se loro stanno sponsorizzando da magari un mese, stessa inserzione, stesso prodotto, stessa landing page, di un prodotto che è evidentemente dropshipping, una volta che voi ne vedete due o tre di negozi dropshipping, ragazzi, alla fine quelli sono, si vede subito, quando un prodotto è dropshipping, viene dall'Express, dalla Cina. Ora, le persone magari normali, che non utilizzano i social media per vendere, non se ne accorgono, però vi assicuro, che poi, tra l'altro, uno dei vostri doveri da dropshipper, è quello di far sembrare il meno possibile, quel prodotto dropshipping, o un prodotto dropshipping. Quindi, magari brandizzarlo, anche aggiungere un brand, che può essere, comunque, determinato in precedenza con il fornitore, questo, ragazzi, veramente, vi fa fare un salto di qualità decisamente rilevante, in quanto, subito, si noterà la differenza tra, un prodotto dropshipping, e un prodotto non dropshipping, che comunque, è un brand affermato. La gente, principalmente, compra online, però vuole semplicemente fidarsi, quindi, perché la gente compra sempre di più dai, magari, brand affermati? Semplicemente perché si fida, ok? Come per esempio, non lo so, Blanchet, non so se avete visto il frullatore portatile, che va un sacco in America, è un brand affermato ormai, che è partito in dropshipping, e poi è diventato private label, e semplicemente ha iniziato così, iniziato in dropshipping, quindi senza comprare in precedenza il prodotto, lo vendete solo successivamente. Non fate le cose a caso, mi raccomando, e quel prodotto deve essere un prodotto, che già sta vendendo adesso, non che vi piace, non che magari l'avete visto così, pensate che vendete, andate a vedere, andate a controllare se sta vendendo, se risolve un problema, quindi, se sta vendendo, effetto wow, quindi non deve essere qualcosa che si trova ovunque, o su Amazon facilmente, ma deve avere queste tre caratteristiche principali, effetto wow, che non si trova facilmente in giro, e che ovviamente risolve un problema, ma che allo stesso tempo, la variabile principale, è che sta vendendo adesso, se sta vendendo adesso, voi prendete semplicemente, quell'esatto prodotto, con lo stesso tipo di sito web, lo stesso tipo di Shopify, negozi e commerce, stessa landing page, stesso testo, tutto, immagini, perché potete tranquillamente prendere, in quanto è un prodotto dropshipping, di conseguenza non ha un vero brand, o non ha un vero marchio alle spalle, e nessuno vi romperà mai le scatole, per quanto riguarda quel prodotto specifico, quindi, rilassatevi, prima di tutto, fate queste tre cose, andate a cercare, quindi, un prodotto che già sta vendendo, assicuratevi che, quel prodotto, è vendibile, nel paese target, per esempio, se lo prendete dall'America, e lo portate in Germania, che ci sia una spedizione veloce, che il fornitore sia affidabile, e che non faccia le cose a caso, anche lui, perché altrimenti, vi ritroverete un sacco di problemi, per colpa sua, quindi assicuratevi prima, di selezionare, assolutamente, un fornitore affidabile, mi raccomando, non fate le cose a caso, voi in primis, e terza cosa fondamentale, deve essere un prodotto, con effetto wow, ovvero, non facile da trovare, che cattura la tensione, e stagionale, quindi, se per esempio, adesso che è estate, fa caldo, ho visto che, va fortissimo in Italia, un blendjet, quindi un frullatore portatile, un po' più, bello, un po' diverso, più carino, più, comunque elegante, eccetera, che sta veramente spopolando in Italia, e che semplicemente, ha preso il blendjet, che comunque ormai è stato visto, rivisto, eccetera, e l'ha semplicemente migliorato, quindi ha preso quell'esatto prodotto vincente, ha trovato una versione migliore, praticamente fa la stessa cosa, davvero porta questo frullatore, che è portatile, quindi te lo puoi mettere nella borsa, nello zaino, quando vai in palestra, vai a correre, e c'hai subito il tuo frullato, già pronto, ok? Ci metti dentro tutta la frutta, tutto quello che vuoi, quindi, mi raccomando, queste sono le tre variabili principali, se stai iniziando a fare dropshipping, se vuoi iniziare a fare soldi online, attraverso dropshipping, guadagnare online, noi ti possiamo aiutare, ovviamente su montanabissessionline.com, abbiamo programmi avanzati, percorsi formativi, che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi, nel giro di poche settimane, quindi assicurati di andare a vedere, su montanabissessionline.com, tutti i percorsi avanzati, c'è anche un percorso gratuito per iniziare, che ovviamente ti consiglio di vederti subito, così da non rimanere indietro, e soprattutto dal punto di vista formativo, perché formarsi ragazzi, è oggi la cosa più importante, non è mai stato così importante come oggi, formarsi con informazioni ovviamente di qualità, non di persone che dicono le cose a caso, magari non hanno mai aperto un negozio dropshipping, e si mettono a dire chissà cosa, da persone che queste cose le fanno da anni, con successo, con risultati veramente straordinari, che ti invito, i milioni di euro generati, tra i diversi business, e-commerce, dropshipping, private label, clienti, studenti, ragazzi, trovate tutto sul mio sito ufficiale, quindi mi raccomando, assicuratevi di iscrivervi lì, in questo video, iscriviti al canale, e commenta se hai qualsiasi tipo di domanda, seguimi su Instagram, lì anche ti rispondo, il mio team ti risponderà subito, in maniera veloce, a qualsiasi tua domanda, Instagram, YouTube, TikTok, mi trovi ovunque, assicurati di trovarmi sempre lì, ogni giorno, per le tue informazioni di qualità giornaliere, noi ci vediamo al prossimo video.